Può essere la più grande gioia per un marketer o qualsiasi persona che lavora al computer? Praticamente questa tazza impedisce che il contenuto al suo interno cada quando viene dato un piccolo urto alla tazza. Si chiama Mighty Mag, è una tecnologia che si chiama Smart Grip Technology e quindi impedisce praticamente che il contenuto al suo interno cada dando dei piccoli urti. Funziona ovviamente su superfici lisce come questa e adesso vi faccio vedere come funziona. Mettiamo caso che io ora stia lavorando al computer e nel peggiore dei casi cosa può succedere con una tazza? che gli si dia un colpo e cade tutto il liquido sul computer, sui tasti, su carta eccetera. Invece con questa tazza, grazie a questa tecnologia, che è praticamente una specie di mini vacuum, succede che quando la appoggiamo crea una specie di vuoto e quindi non cade. Possiamo colpirla forte quanto vogliamo, ovviamente non forte come un cartone gigante, ma resiste. Ovviamente per sollevarla non bisogna fare forza come se fosse una ventosa, ma è semplice alzarla in questo modo. Quindi non muovendola in un'altra direzione, ma alzandola semplicemente sopra. Non è assolutamente una ventosa né niente, ma fa praticamente un effetto vuoto e quindi non cade. Questa tecnologia è stata ovviamente patentata con un brevetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.